Scarichi abusivi nel fiume Pescara in diminuzione rispetto al 1989, infatti sono 48 gli scarichi nel fiume Pescara mappati dall'Università d'Annunzio con uno studio commissionato dalla regione, meno dei 116 censiti nel 1989, anno in cui la regione avviò una costosa campagna di ricognizione degli sversamenti illeciti. Il presidente della regione Abruzzo, che ieri ha incontrato i sindaci dei comuni che insistono lungo l'asta fluviale del Pescara, Scafa, Chieti, Rosciano, Cepagatti, Manopello, Alanno, Spoltore, Turri Valignani, Torre dei Passeri, Castiglione a Casaria e Pescara, ha sollecitato i comuni a farsi promotori di una ulteriore attività ricognitiva sulla presenza di infrastrutture deputate al ciclo delle acque e di manifestare eventuali carenze. Nel corso dell'incontro il presidente D'Alfonso ha poi annunciato un giro di vite sugli scarichi abusivi e l'attivazione di una custodia visiva dei cantieri che saranno aperti a breve dalle società aggiudicatarie dei lavori di efficientamento di 15 depuratori, lavori appaltati da ACA grazie ad un finanziamento della regione Abruzzo pari a 36 milioni di euro.